Viviamo insieme questa irripetibile esperienza con passione politica, autentica, con animo casto e soprattutto con la sorpresa dell'amicizia. Ci mancheremo quando verrà il tempo nuovo e ci rispeccheremo finalmente l'un nell'altro e ci mancherà anche quello che non abbiamo vissuto assieme, fra i banchi della scuola, nell'adolescenza inquieta e nell'età in cui non si ama. La mia fede è la tenerezza dei tuoi sguardi, la tua fede è nelle parole che cerco. Quando voglio vedere questo rapporto così intenso e dolente, chi può essere il destinatario di parole così belle? Così, così, così. Non ci arriverete mai. Quello che ci mancheranno tra i banchi. Fabrizio Cicchitto. Ma adesso con tutto il rispetto, con tutta la simpatia, ma si possono scrivere queste cose. Perché dice così? No, stiamo molto simpatico, ma questa intensità, questa cosa, io pensavo, non so, guardi, una vicina distanza sua è Elisabetta Gardini, voglio dire, ma più o meno. Cicchitto.